La scuola dell'infanzia Gaggia è la scuola dell'autonomia. È organizzata in varie aree laboratoriali per favorire lo sviluppo dei molteplici saperi. L'area esperienziale per eccellenza è il giardino, in quanto viene privilegiato l'utilizzo del materiale naturale e la scoperta dell'ambiente. I bambini hanno libero accesso ai laboratori, le insegnanti li osservano nel gioco libero, dispongono spazi e materiali per lavorare sui loro bisogni attraversando i loro interessi. Lo sviluppo degli apprendimenti viene sostenuto mediante l'utilizzo di materiale destrutturato, il contatto con la natura, proposte basate sul fare quotidiano ed esperienze sporchevoli. collaborazione con il centro per anziani del quartiere è uno dei nostri punti forti. Trova grande spazio all'interno della nostra programmazione il progetto Nati per leggere e spesso sulla progettualità della scuola si attivano laboratori dei genitori. Grazie a tutti!